Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Iniziamo questo TG con una notizia importante che riguarda la Curva Sud che oggi ha emesso un comunicato ufficiale dove afferma che non sarà presente al raduno. Come è stato affermato nel comunicato, quest'anno sarà un raduno con la rosa ridotta dal momento che comunque sia molti dei nostri giocatori sono ancora impegnati in Euro 2024 e senza alcun acquisto di mercato nuovo da accogliere. Fonseca è atterrato stamani a Malpensa. È atteso in conferenza stampa che si terrà lunedì alle 11. Il Milan sembra aver fatto un'offerta al Tottenham per Emerson Royale esattamente di 14 milioni ma pare che il club non abbia accettato perché ne vorrebbe 20. Sembra essere spuntato un nuovo nome per la difesa ovvero Pavlovich del Red Bull Salisburgo. I rossoneri potrebbero essere disposti ad offrire dai 20 ai 25 milioni per il giocatore. Con l'arrivo di Fioli nella panchina dell'Alitiad, Ben Nasser potrebbe partire in direzione Arabia visto il buon rapporto tra i due. Ci sono stati dei contatti positivi tra il Milan e gli agenti di Morata. Per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2027 e pare che il giocatore sia stato contattato direttamente da Zlatan Ibrahimovic. Ieri sera abbiamo assistito a un grandissimo match tra Portogallo e Francia che è terminato ai rigori e come ovviamente tutti sappiamo c'erano alcuni nostri rossoneri in entrambe le formazioni. La Francia è riuscita a passare alle semifinali grazie a un ultimo calcio di rigore tirato proprio da Teo Hernandez. Queste sono tutte quante le notizie di giornata e come al solito vi invito a venire a seguirci su tutti quanti i nostri social.